Un buoto nella notte che ha fatto scattare le telefonate dei residenti di Via Italia, Villa Raspa di Pescara, alle 3.30. Svegliati dal frastuono dopo aver chiamato i carabinieri, hanno scoperto che tutto era dovuto ad un tentato furto aggravato alla sede della banca Monte dei Paschi di Siena. Il modus operandi ripercorre quello di Cannosa Sannita, avvenuto due giorni fa, un carroattrezzi utilizzato per portare via il bancomat con le banconote. In questo caso i carabinieri hanno ricostruito la scena anche con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza, che hanno filmato tutto. Prima hanno sfondato il bossolotto dell'istituto di credito e poi con un lungo cavo d'acciaio hanno legato lo sportello di prelievo. Ma la fretta e l'allarme attivato hanno rovinato i piani, facendo scappare i malviventi senza refurtiva. Gli uomini della compagnia di Pescara hanno poi ritrovato il carattrezzi abbandonato poco lontano dalla sede della banca, in via Fellini. Intanto lo sportello bancomat è stato preso in consegna dei carabinieri in attesa che venga aperto. Non è certo ancora che possa essere recuperato il denaro contenuto, poiché l'allarme interna allo sportello potrebbe aver fatto scattare l'inchiostro utile a segnare le banconote. E dunque in quel caso sarebbero inutilizzabili. Il Monte dei Paschi di Siena di Via Talia intanto ha messo al lavoro gli uomini della sicurezza per ripristinare quanto prima la sede, che nel frattempo resterà aperta al pubblico. Dunque funzionante grazie alla presenza di forze dell'ordine nel corso degli orari di apertura. Secondo le previsioni occorreranno due settimane per ripristinare la sicurezza della sede.